La Sabdoria vince il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati guidati da Walter Zenga hanno vinto ieri sera a Marasse per 2-0 contro il Bologna grazie alle reti di Eder e Soriano. La gara che inizialmente era programmata per domenica pomeriggio era stata rinviata a causa del forte maltempo che ha colpito la Liguria. Ma il grande calcio non si ferma. Martedì comincia la fase a gironi della Champions League con il primo impegno delle due formazioni italiane. Infatti a Manchester la Juventus di Massimiliano Allegri deve recuperare il pessimo avvio in campionato e sarà in trasferta contro il City, la seconda squadra di Manchester. L'inizio della gara è vissato alle 20.45.